Questa villa ci è stata proposta dal comune di Pugliano e serviva una villa un po' decadente, un po' abbandonata, ma che deve rappresentare il protagonista del film, che è un'obbliga decaduto, che ha questa storia d'amore con questa donna più giovane di lui, si tratta anche di un film decisamente da autore, non stiamo facendo un film strettamente commerciale e la recitazione in questo tipo di cinema deve essere veramente curata al dettaglio, ci fermiamo abbastanza, in questa villa prevalentemente interni e esterni, tutto bene per poter non solo valorizzare storie e personaggi, ma anche l'ambiente che in questo caso, in questo tipo di cinema, è parte della storia. Io ho girato un po' dappertutto, anche in Toscana, a Roma... Devo dire che la Liguria era uno di quei territori che non avevo mai sfruttato in nessun film, nonostante io abbia spesso utilizzato degli attori liburi, per esempio nel film c'è Anna Parco, che è un'attrice libura. Devo dire che sono affascinato dall'ambiente, bellissima Liguria, bellissima, io non avevo ancora capito quanto fosse cinematografica. Giriamo qualcosa a Borgio, poi sulle varie spiagge, a Finale, a Pietraligure, qui si tratta di una storia più intimista. Questo tipo di cinema è prevalentemente, deve uscire ovviamente, uscirà o nelle sale, quando li apriranno, o in televisione, però è molto adatto al pubblico dei festival. Questa villa è la residenza di questo ex senatore, che si sposa con questa giovane donna. È un po' deluso dalla politica, però continua a pensare al bene dei Liguri, quindi cerca di portare avanti alcune idee innovative per la Liguria. Siamo qui nella settimana ormai per la preparazione del set, perché la villa era ovviamente senza mobili, eccetera, quindi abbiamo dovuto arredare le stanze in cui loro due si muovono. Stiamo preparando tutti gli arredi, le scenografie. A parte le rifiniture, eccetera, manca ancora tutta l'attrezzatura. Quindi a parte le cineprese, eccetera, quindi gli obiettivi, ma anche i bracci, i binari, insomma tutta l'attrezzatura cinematografica necessaria. A noi abbiamo previsto quattro settimane, poi il cinema è quello che è. Difficilmente si fa prima, ma potrebbe anche essere. Speriamo di rimanere in tre termini, insomma. Mi chiamo Fabio Mazzari. Mi sono forse più conosciuto come Alfio Gerardi, perché è il personaggio che ho fatto per dieci anni nella soap di Canale di Cinque Vivere, che mi ha dato una certa popolarità. E adesso mi trovo ad affrontare un personaggio totalmente opposto. E che però è un personaggio molto affascinante, di un intellettuale di una certa età che ha dei tratti molto raffinati, anche un po' decadenti, ed è un personaggio molto ricco di risvolti, ecco, e ha soprattutto una bellissima fidanzata. La villa è semplicemente perfetta per quello che è l'ambiente reale in cui si svolge la storia, in cui vive questo personaggio. È un luogo questo che ha i segni di un passato ricco, nobile e vagamente in degrado. È bello esteticamente per quello che è la scenografia naturale che porta con sé. Non avevo mai lavorato professionalmente a Quilliano, ma adesso che scopro oltretutto che è una città piena di iniziative e soprattutto capo dello spettacolo, del cinema, della comunicazione, mi pare una scoperta bellissima. Ero impredicato di venire molte volte al Festival di Verezzi, ma non ce l'ho mai fatta e sono contentissimo di essere qui, perché poi io conoscevo questa zona, perché con mia moglie abbiamo vissuto per anni, perché lei aveva un'attività a Finalborgo e quindi è stato il finalese, diciamo, che lo conosco e l'ho sempre molto amato, per cui venire qui mi fa personalmente molto piacere. Io mi chiamo Valentina Di Simone e interpreto Daria, la moglie di Giorgio Aurispa nel film Stilema. È un personaggio molto difficile, drammatico, intenso, di quelli che ultimamente vengono poco rappresentati, perché non è impostato su uno stile unico, cioè non è un prototipo, è molto particolare, ha tante sfumature psicologiche, interiori, è una bella sfida. A me piacciono tantissimo queste tipologie di costruzioni, quindi per me è adorabile come gusto e poi è proprio adatta a questo film, un po' bello ma un po' decadente, ecco, come stile. Grazie a tutti.